Delusione dei pendolari del Valdarno per il vertice in regione con RFI e Trenitalia. Sono palliativi le opzioni tecniche proposte da RFI, afferma il portavoce del Comitato dei Pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Darè, che riguardano in modo discutibile modifiche agli orari ai tragitti dei treni dei pendolari, senza considerare anche le modifiche ai treni dell'alta velocità e soprattutto la questione della precedenza ai treni regionali, prevista da una norma di RFI nazionale, concetto ribadito ai nostri microfoni qualche giorno fa. Siccome da una normativa nazionale di RFI è previsto che quando ci sono linee sature, come sarebbe di fatto la linea direttissima, nelle orari di punta, dalle 6 alle 9, dalle 17 alle 20, chi deve avere la precedenza tra un treno regionale e un treno di alta velocità e il treno regionale avere la precedenza, invece di fare i linchini, sarebbero a questo punto i treni regionali a prevalere tra virgolette su treni di alta velocità, il che sarebbe anche quasi clamoroso. Però se questa normativa di RFI prevede questo, che venga finalmente applicata. Per il treno Foligno 4070, fra i più critici della mattina, viene proposto uno slittamento, definito assurdo dai pendolari, di 15 minuti nell'arrivo a Santa Maria Novella. Per il Foligno 4085, delle 18 e 14, fra i più usati per il rientro, viene proposto invece un posticipo di 4 minuti alla partenza da Firenze, ufficializzando così, affermano i pendolari, un ritardo che oggi è già nei fatti. Per il treno Chiusi 4109, delle 17 e 14, anch'esso molto usato per il ritorno, viene proposto in alternanza con un treno precedente, il Chiusi 4119, sia per il percorso indirettissima che per la modifica dell'orario di partenza, con il rischio di sovrapposizioni. Le proposte tecniche di RFI, conclude Dare, saranno sottoposte a un sondaggio dei pendolari del Valdarno, ma è auspicabile che al prossimo incontro, proposto dall'assessore Baccelli, ci siano nuove indicazioni tecniche di RFI riguardante i treni AV e migliori per i pendolari.